Chiara è una ragazza intraprendente e vuole realizzare i suoi progetti. Quindi ha deciso di investire un piccolo capitale. Ma per raggiungere il suo obiettivo ha bisogno di aiuto. Così ha scoperto le polizze di investimento BNL Cardiff Vita, l'ideale per chi desidera investire beneficiando della trasparenza e dei vantaggi fiscali del mondo assicurativo. E ha scelto Investi Polizza BNL Easy Life, per avere un investimento in cui il rischio è sempre sotto controllo e non supera mai i limiti che lei ha scelto. Con BNL Easy Life Chiara può avere molto di più. Può personalizzare la sua polizza secondo il suo approccio all'investimento. Può scegliere tra due strade in funzione della sua propensione al rischio. Un approccio prudente o un approccio moderato. Con BNL Easy Life il livello di rischio dell'investimento di Chiara è tenuto costantemente sotto controllo da un team di esperti BNP Paribas. Che ricerca per lei la migliore performance in ogni momento. Con la guida degli esperti a cui affidare la gestione delle complicazioni, Chiara può cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato. Grazie a opportunità di rendimento, controllo del rischio, semplicità, Chiara ha realizzato il suo progetto. È il momento di tornare a investire. Vieni anche tu nelle nostre filiali. Siamo qui per questo. Prima della sottoscrizione, leggere attentamente il fascicolo informativo.